Dritti al punto. Queste cuffiette USB-C sono molto valide ma non le migliori. Vi spiego il perché. Hanno una bella pochettina con un effetto finto carbonio, comoda e ben fatta per trasportarle. All'interno, oltre alle cuffiette stesse, troviamo un sacchettino con gli adattatori per le varie dimensioni del canale auricolare. Ce ne sono diversi e potrete dare di sicuro quello che fa per voi. Una volta trovato quello giusto, sono molto comode indossate. Hanno un driver da un centimetro e la cassa in cui è inserito è fatta di metallo, una cosa un po' particolare che non si trova frequentemente. I fili che vanno dalle cuffie fino al punto di giunzione sono di gomma e da quel punto in poi invece parte un filo rivestito con una treccia di nylon, abbastanza carino. Il microfono con i pulsanti per il volume, il microfono è questo forellino da questo lato, è piuttosto vicino all'auricolare. Questa è una cosa estremamente positiva perché cade naturalmente vicino alla bocca. Perché dico che non sono le migliori? Semplicemente perché per lo stesso prezzo, forse un euro di meno, si trovano delle alternative che funzionano altrettanto bene e che magari hanno qualche dettaglio più riuscito, per esempio un magnetino che fa stare assieme i due auricolari. Vi faccio sentire, è qua andato a sinistra, come funziona il microfono. Prova di registrazione con le cuffie auricolari USB-C di Acandia. Sto registrando in un ambiente abbastanza silenzioso e con un tono di voce piuttosto contenuto. Il microfono che mi ha dato dei risultati diciamo soddisfacenti, quindi complessivamente trovo che siano delle cuffie adeguate, riuscite. Se le prendete sarete comunque soddisfatti perché hanno un buon volume, hanno dei buoni bassi, insomma per il livello di prezzo sono accettabili, ma semplicemente hanno diciamo delle concorrenze guerrite che forse riesce a fare quel pelino meglio.